Francesco De Fabiani, siamo a Livigno, tra l'altro è vero che ha fatto anche abbastanza caldo i giorni scorsi, però sono state giornate meravigliose e soprattutto avete ritrovato la neve. Che sensazione è stata di questo primo contatto? Sì, è sempre bello riuscire a tornare sulla neve così presto. È un anno un po' speciale perché di solito la prima sciata la facciamo in ghiacciaio, invece quest'anno l'abbiamo fatta qua a Livigno, anche grazie all'impegno e al grosso lavoro che fanno con lo snow farming per riuscire a fare una pista già prima di metà ottobre quest'anno. Diciamo che le sensazioni sono buone. Il fatto di non avere più il mal di schiena che mi ha un po' stoppato a fine agosto quando eravamo tornati dalla Norvegia è sicuramente positivo e quindi il fatto di riuscire ad allenarsi senza intoppi è la cosa migliore per arrivare alle prime gare sperando di avere la condizione migliore possibile. Poi la cosa positiva è che hanno aggiunto anche una salita ancora un po' più tecnica proprio per voi in modo da accontentare giustamente le vostre richieste che volete provare a fare degli allenamenti efficaci a questa quota oggi avete fatto un veloce, è una cosa per voi molto utile? Sì, perché ovviamente in ghiacciaio la quota è più proibitiva e non riesci a fare intensità di solito lo dobbiamo fare con gli ski roll invece questo è un buon compromesso perché ti permette di essere in quota ma di avere la neve e di poter fare intensità sui sci che è quella cosa che conta di più quando ti avvicini alle gare. Si parla ormai da qualche settimana di questa candidatura olimpica italiana del Veneto, della Lombardia e anche del Trentino tu sei uno giovane, a te quelle olimpiade potrebbe anche interessare perché insomma toccando ferro tu dovresti essere ancora assolutamente nel pieno della maturità, che effetto ti fa il fatto di sentire parlare di un'olimpiade italiana? Sicuramente dopo tre olimpiadi, una in Russia andava ancora abbastanza bene, le altre due sono decisamente lontane riuscire a portare di nuovo le olimpiade in Europa, magari anche soprattutto in Italia sarebbe veramente il sogno di una vita otto anni sono lunghi, però credo che si possano fare, dipenderà molto da come andranno questi anni e anche i risultati ma sarebbe anche uno stimolo per continuare altri otto anni e correre in casa sarebbe un'olimpiade credo che sia completamente diverso rispetto alle olimpiade che abbiamo appena fatto, è sicuramente molto più sentita e veramente credo che il clima olimpico la farebbe la padrona, non come nelle olimpiadi passate in cui erano olimpiade in cui sentivi che la gente era distante, non era appassionata già prima dell'olimpiade e non lo è stata nemmeno dopo, quindi farlo in Italia sarebbe il sogno di una vita. Guardando al calendario, che tipo di pensiero ti sei fatto? Ogni anno cambia, per esempio quest'anno sono molte sprinta tecnica libera qualcuno al nord ha polemizzato sul fatto che forse, e ti riguarda questa cosa, è difficile chiamarlo sempre più sci da fondo perché ci sono sempre meno distanze lunghe, in sostanza per voi uomini, una 30 e una 50, non sei mai visto un calendario così? Sì, sicuramente negli ultimi anni la tendenza è quella di accorciare ma dal mio punto di vista le gare che mi piacciono ci sono, ovviamente una 30 e una 50 sono poche anche e soprattutto a confronto agli anni passati, decenni passati sci di fondo è sempre sci di fondo perché alla fine anche una sprint non ha niente di meno che una 50 ovviamente la tradizione però è più verso le esistenze lunghe è un cambiamento che c'è in questi anni non saprei se farà bene o male spero che faccia bene al tutto il movimento anche perché credo che la tendenza della FIS sia quella di accorciare le gare per alzare l'appeal verso i giovani che magari è più facile guardare una sprint che una gara lunga in cui magari la parte interessante è solo nel finale e se non sei veramente appassionato tutto il resto non è così importante invece nella sprint essendo fatta da tante batterie ogni volta c'è la battaglia come se fosse il finale di una gara distance e questo credo che sia il motivo principale poi che porterà un beneficio o no lo vedremo grazie mille grazie